Il risulta sia all'OMS che al Comitato Tecnico Scientifico che la scuola ha davvero un impatto sul contagio minimo, che i bambini quindi rappresentano una minima criticità. Di contro invece la presenza garantisce ai bambini un percorso regolare di crescita emotiva, di crescita culturale e davvero di una convivenza con il virus, che non può essere quella di tenere i bambini richiusi in casa. E' questo l'appello alle istituzioni pugliesi che ha voluto rilanciare il presidente dell'Associazione Scuola e Vita di Andrea Pietro Lamorte, che già nei giorni scorsi aveva scritto una lettera diretta al ministro dell'istruzione Azzolina, ribadendo la necessità della didattica in presenza senza lasciare un così ampio margine di scelta alle famiglie. Un concetto in realtà ribadito anche dal Comitato Tecnico Scientifico che collabora con il governo, con Agostino Miozzo per esempio, che ha voluto spiegare come ci siano tutte le condizioni in tutta la nazione per riaprire interamente le scuole in presenza, anche per quel che riguarda gli istituti superiori. Nel caso Puglia in realtà i problemi, ci spiega Pietro Lamorte, sono molteplici e stanno costringendo le scuole e i genitori a scelte che alcune volte non tengono conto delle reali necessità dei ragazzi in questa fase di crescita. Tante scuole erano attrezzate perché avevano aule strette, quindi per fare la didattica integrata, quindi con le due tipologie. Alcune scuole di Andria invece hanno la possibilità solo di condurre un tipo di didattica e quindi sta succedendo, noi stiamo raccogliendo delle denunce da parecchi istituti, dove in ogni classe la maggioranza diventa poi l'unica scelta e mi spiego meglio, se la maggioranza decide per la didattica a distanza, in presenza non c'è la possibilità di essere seguiti dal maestro originario. Per Pietro Lamorte anche il Tar, che ha emesso sentenza il 18 novembre scorso sulla prima ordinanza che chiudeva le scuole della regione Puglia, non ha realmente fatto chiarezza sull'argomento. Io sono dell'avviso che siccome il Ministero dell'Istruzione, dopo aver avuto degli approfondimenti enormi col Comitato Tecnico Scientifico, hanno stabilito delle linee guida governative, rispetto all'obbligo scolastico io penso che tutti abbiano il dovere di allinearsi e non possiamo lasciare la scelta in maniera libera.